Oscar, mi sono accattato un cellulare che niente meno fa pure fotografia oi ecco, quanto li pagate? 300 euro e che re, fai sempre questa cosa a morte fama io tengo un cellulare importante, 2000 euro 2000? e che fa? che fa? fa fotografia, fa fax, fa internet fa pure la spesa mattina ma la cosa importante, la novità, è la suoneria la suoneria? eh, la suoneria della zanzana tale è qua la zanzana l'hai sentito? te lo giuro tale è qua la zanzana, 2000 euro tale è qua la zanzana ma perchè c'è? perchè stamattina c'è in casa un'altra e l'ho scavazzato con uno scarpone